Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera dell'Aula alla legge regionale per le politiche giovanili, destinatari giovani da 14 a 35 anni, riconosciuti come risorsa essenziale. Il servizio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di Lega Forza Italia Fratelli d'Italia e l'astenzione di Ricci De Vincenzi e del Movimento 5 Stelle, la legge enorme in materia di politiche giovanili, destinata ai giovani compresi fra i 14 e i 35 anni, residenti o presenti nel territorio regionale per motivi di studio e di lavoro, i quali vengono riconosciuti risorsa essenziale della comunità regionale, promuovendo e favorendo la loro formazione, l'accesso al mondo del lavoro e la loro partecipazione alla vita pubblica attiva. La legge prevede anche l'educazione a corretti stili di vita attraverso la promozione della salute e della sessualità sicura, unitamente al contrasto di droga, alcol, fumo e ludopatia. Un progetto di legge volto ad assicurare maggiore dignità alle nuove generazioni e maggiori speranze per il futuro. Sarà istituito un tavolo di coordinamento con gli enti locali sulle politiche giovanili, composto dall'assessore competente e da 12 assessori comunali. Verrà istituita anche la consulta regionale dei giovani, composta al massimo da 35 rappresentanti, scelti con la massima trasparenza e garantendo parità di genere tra associazioni, movimenti giovanili, universitari, oratori, giovani imprenditori, giovani professionisti e altri. La dotazione finanziaria di 70.000 euro al testo di legge sono stati aggiunti alcuni emendamenti proposti dal capogruppo dei socialisti e riformisti Silvano Rometti e fatti propri dalla Giunta che riguardano il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La Lega Nord ha motivato il voto contrario sostenendo che si tratta di una legge fatta di soli principi con i quali non si creano posti di lavoro e con una dotazione finanziaria insufficiente, soprattutto se si pensa alle enormi risorse che vengono invece destinate all'accoglienza degli extracomunitari. Per Forza Italia e Fratelli d'Italia è la solita legge che elargisce pochi spiccioli a pioggia, meglio quindi fondi più corposi ma mirati su pochi interventi prioritari, perché c'è il rischio che i soldi finiscano per alimentare associazioni che sono costole dei partiti. Fra gli astenuti il Movimento 5 Stelle ha riconosciuto che alcuni dei principi contenuti sono condivisibili, ma la legge non contribuirà ad aumentare i posti di lavoro, che sono la vera necessità dei giovani. Mentre Ricci e De Vincenzi, pur condividendo parte delle finalità, vorrebbero trasformare alcuni punti e si augurano che vengano scelti pochi progetti all'anno cui dare priorità affinché risultino efficienti. Approvato in terza commissione il piano dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Paolo Giovagnoni La terza commissione consigliare presieduta da Attilio Solinas ha approvato a maggioranza il piano dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Hanno votato a favore i tre consiglieri di maggioranza, astenuti i tre di opposizione, come da regolamento a prevalso il voto del Presidente. Parere favorevole all'attivazione del liceo musicale coreautico presso l'Istituto Italo Calvino di Città della Pieve. Giudicate ammissibili, previo parere dell'ufficio scolastico regionale e quindi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, le richieste del convitto nazionale di Assisi di attivare un corso di liceo scientifico internazionale con opzione lingua cinese e quella del liceo scientifico artistico sportivo Marconi di Foligno per l'attivazione di un corso di liceo scientifico internazionale con opzione lingua inglese, sempre previo parere dell'ufficio scolastico regionale e quindi a partire dall'anno scolastico 2017-2018. Oltre alle modifiche riguardanti la programmazione, l'Aggiunta ha anticipato alla Commissione consigliare alcune importanti informazioni sull'edilizia scolastica. Grazie a mutui trentennali con cassa depositi e prestiti, la Regione potrà effettuare lavori per un ammontare di 19 milioni e 250 mila euro, previsti i miglioramenti dal punto di vista sismico e della sicurezza su 32 delle 127 scuole Umbre ammesse ai finanziamenti. Audizione in prima commissione del Presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e della Presidente dell'Associazione Stampa Umbra sulle problematiche e sulle prospettive connesse al mondo dell'informazione e dell'editoria in Umbria. David Mariotti Bianchi La chiusura del Giornale dell'Umbria è solo l'ultimo caso di una situazione molto preoccupante. Il panorama dell'informazione in Umbria è devastante e serve una legge di sistema complessiva che tenga conto della crisi specifica della nostra Regione. Sono queste alcune delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione del Presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Roberto Conticelli e della Presidente dell'Associazione Stampa Umbra Marta Cicci che si è svolta in prima commissione. Per Marta Cicci la crisi in Umbria ha colpito in maniera particolarmente forte e rischiamo di essere relegati a funzione di passaggio di gruppi editoriali più ampi con il pericolo di veder spazzata via tutta l'informazione regionale. Molte regioni, ha detto, hanno deliberato recentemente in materia. Veneto, Molise, Toscana lo sta facendo l'Emilia Romagna. L'Umbria, con una nuova norma, dovrebbe mantenere la primo genitura in capacità di anticipare i tempi e valorizzare il ruolo dei giornalisti. Roberto Conticelli ha auspicato un tavolo tecnico per approfondire non solo il problema del Giornale dell'Umbria ma quello dell'editoria in generale per arrivare ad approvare una legge che affronti le questioni dell'informazione in maniera complessiva. Questa, ha detto, è una crisi che non si vede perché i giornali continuano ad uscire ma la forza lavoro si è dimezzata tra i professionisti e azzerata per i pubblicisti. Tra i 1.600 iscritti all'ordine in Umbria ci sono un migliaio di giovani pubblicisti in cerca di occupazione che non hanno alcuna prospettiva. Il presidente della prima commissione, Andrea Smacchi, ha detto che questa è la prima di una serie di audizioni al termine della quale arriveremo ad una normativa capace di sostenere organicamente tutta l'editoria. Approvata in terza commissione la relazione sulle attività svolte nel 2014 dalla CRAS, la centrale regionale per gli acquisti della sanità. Paolo Giovagnoni La terza commissione consigliare ha approvato a maggioranza, favorevoli Solinas, Chiacchieroni, Casciari e Rometti, Contrari, Squarta, Ricci, Astenuta, Carbonari del Movimento 5 Stelle, la relazione 2014 della CRAS, la centrale regionale degli acquisti nella sanità. È stato l'amministratore unico Carlo Benedetti a illustrare ai commissari quanto fatto nei primi sei mesi di attività della centrale unica per gli acquisti in sanità che è stata istituita nel giugno del 2014. Gli obiettivi prefissati, ha spiegato Benedetti, erano l'implementazione del nuovo modello di approvvigionamento del sistema sanitario regionale e nel corso dell'anno si è lavorato per la definizione di concerto con le aziende sanitarie del regolamento di gestione della CRAS, che comunque sconta la carenza di risorse professionali con esperienza pluriennale e il vincolo anche dell'impossibilità di assumere per la regione per cui sono state utilizzate professionalità provenienti dalle aziende sanitarie. Altra difficoltà è il passaggio di personale da una pubblica amministrazione a un soggetto privato che è possibile solo tramite assegnazione temporanea. È stato istituito un apposito nucleo composto da delegati delle aziende sanitarie per la definizione di un nuovo modello regionale di gestione della logistica dei beni farmaceutici ed economali. Urbanistica e geotermia. Costruzione, l'impugnativa del governo del testo unico dell'urbanistica, ma anche la questione geotermia. Vediamo. Si è parlato di questioni urbanistiche nella seduta della seconda commissione presieduta da Eros Brega e alla quale ha preso parte l'assessore regionale Fernanda Cecchini. Con cinque voti favorevoli e due astenuti è stato espresso parere favorevole all'atto di giunta con il quale si proroga alla prossimo 30 aprile 2016 l'aggiornamento del contributo di costruzione da parte dei comuni. Il termine temporale, fissato dal regolamento legato al testo unico del governo del territorio e materie collegate, legge regionale 1 del 2015, era stato fissato per lo scorso 31 ottobre con efficacia dei provvedimenti comunali, stabilita al primo gennaio di quest'anno. Sono stati poi illustrati da parte di dirigenti e tecnici dell'assessorato gli articoli e i punti sui quali l'esecutivo nazionale ha deciso di impugnare la legge regionale relativa al testo unico del governo del territorio. A tal proposito, l'assessore Cecchini, dopo aver ricordato che la giunta regionale ha disposto di costituirsi nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, ha parlato di alcuni incontri effettuati con i ministeri interessati, individuando aspetti normativi e regolamentari su cui sono possibili modifiche ed integrazioni volte a superare gran parte delle eccezioni di incostituzionalità. Fissate per la prossima settimana una serie di audizioni in proposito. A margine della riunione, il presidente Brega ha annunciato la volontà di inserire al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta il tema della geotermia nella piana dell'Alfina. La questione, dopo vari approfondimenti e audizioni già avvenute all'interno della stessa commissione, prima dell'avvicendamento della presidenza, verrà nuovamente approfondita, alla luce di una circostanziata relazione tecnica predisposta dagli uffici della giunta regionale. La terza commissione consigliare, presieduta da Tilio Solinas, ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione per gli istituti penitenziari Umbri. Paolo Giovagnoni Accogliendo le istanze emerse dalle audizioni del garante dei detenuti e dei rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria, la terza commissione ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione con cui si impegna la giunta regionale a verificare l'efficienza dell'assistenza sanitaria dentro i penitenziari, a istituire un centro clinico riservato ai detenuti dentro il carcere di Perugia o, in alternativa, una sezione protetta all'interno dell'ospedale, potenziare la formazione delle persone sottoposte a restrizione della libertà. La commissione chiede l'impegno della giunta anche nel sollecitare le autorità competenti affinché venga colmata la consistente carenza di personale della polizia penitenziaria. Vengano dislocati presso un unico istituto penitenziario adeguatamente organizzato i detenuti ad alta sicurezza e venga aumentato il livello di sicurezza nei territori circostanti gli istituti penitenziari che li accolgono. Infine, a fronte della soppressione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria dell'Umbria e il suo accorpamento a quello della Toscana venga mantenuta nel capoluogo di regione una struttura locale di carattere operativo quale apparato di gestione territoriale dotato di pari autonomia rispetto alla centrale operativa regionale ubicata presso la sede dei provveditorati regionali. È tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti.